Il verde si riprende, purtroppo in questo caso, il centro storico Aretino. Nei mesi di lockdown, infatti, la natura ha preso il sopravvento, dipingendo però talvolta un quadro non così bello da vedere, come ad esempio nel salotto buono del centro storico di Arezzo, Piazza Grande, dove le erbacce sono cresciute regogliose sotto l'abside della pieve, ma anche sulle mura della terrazza del Palazzo di Fraternita. Altrettante erbacce anche sulle scalinate della cattedrale. A denunciare la situazione, con un reportage fotografico sui social, era stato Severino Baldi, che aveva immortalato le erbacce e le piante selvatiche cresciute in molti angoli della città, semideserta, in questi mesi di lockdown. Non ci competono direttamente, perché competono i proprietari delle scale, per capirsi, ma se necessario daremo mano anche noi. Diciamo che aspettiamo di arrivare al momento in cui si apre per pulire tutto. In questo momento voi sapete che queste continue alternanze di piogge e sole fanno sì che l'erba cresca con una velocità eccezionale. Il mio amico di Perugia, Andrea Romizzi, dice che è cominciata la battaglia dell'erba. È proprio vero, la battaglia contro l'erba. Sarà fatto nel momento in cui sarà necessario proporsi anche per un traffico che non è solo cittadino, ma è anche extracittadino.